Oggi, a proposito di cosa non hanno fatto in passato, ma è oggi il primo giorno in cui è vigore la legge perché il prappo dello Stato l'ha firmata ieri, il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio, nel suo bar, nella sua azienda, nella sua tabaccheria. Anni e anni di chiacchiere, oggi è legge. Ci sono le indagini in corso per verificare se oggi, anzi ieri notte, per l'esattezza si è verificato il primo episodio di legittima difesa in provincia di Roma perché stanotte è stato scaricato un ragazzino albanese ferito fuori dall'ospedale di Roma e pare che possa essere parte di un gruppo di tre rapinatori che hanno provato a rapinare in una villetta fuori Roma, evidentemente gli è andata male. Il giornalista della stampa mi ha detto, ma non ti spiace che uno di questi sia stato ferito, se non avesse fatto il rapinatore starebbe bene, se non fosse entrato di notte in casa altrui probabilmente sarebbe stasera a guardare ballando con le stelle.